Ready, set, heroes! Ready, set, heroes! Haha ragazzi, incredibile! Allora, andiamo a vedere un attimo com'è questo megagioco, avventura riusa nell'attore, sopravvivenza, pubbliche Ah, ma è un gioco solo, solo locale, privata o pubblica vabbè, giochiamo con il nostro grandissimo Zane Boy, ciao Zane grande Leo che adesso non è più Zane Boy ma si chiama Mr. Zane Mr. Zane, ok oh, bellissimo Ranozzo oh, io Ranspo bellissimo ah, e tra l'altro in italiano tutto, eh, anche l'audio ragazzi incredibile pronti? cosa bisogna fare? aia ah, con la X ahia che legnate no, quelli non si possono e come si fa a prendere le poze lì? nooo, il grandissimo Zane Boy ah, si può ricominciare eh, anch'io sto per cadere mi sa nooo caccia al tesoro quindi oh oh no, sono morto alla fine era uscito caccia al tesoro e sono morto quindi caccia al tesoro di che? aia ah ma con R1 si può si può rotolare oh, armatura aspetta con l'R1 si può nooo eh R1, vedi? ah, R1 ok vediamo qua cosa succede la squadra blu è nelle profondità del sotterraneo ahia sono delle frecce absurde guarda qua ok, con l'R1 per forza perché bisogna scivolare ok, bellissimo, bellissimo vai 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 c'è anche la freccia e Drams è caduto vediamo dove ah, ripartiamo dall'inizio grande così Emi deve sparare un'altra volta aia aia ce la famo aia oh quindi ha spostato il aia allora quindi bisogna tornare aia allora ah, uno bello bello blu ho preso un altro un altro robo incredibile ah, siamo andati ancora più sotto ah, aia aia questo è questo è forte questo qua questo qui è un online e comunque con gli amici ragazzi si può giocare fino a quattro giocatori e tanta roba adesso sto giocando con il grandissimo zone boy divertente ah ho fatto assegare dal coso lì devo poi provare a vedere se ci sono partite online perché a sto punto magari secondo me l'hanno un po' regalato col plus questo gioco per rianimarlo un po' perché giochi tipo questi qui molto belli ma a un certo punto possono anche calare di giocatori e ah c'ho l'r1 oh lo faccio entrare dentro lì no non si può forse con l'r1 vuoi vedere col triangolo c'ho le frecce non ne ho la qualità lui ha il mandolino bellissimo vabbè niente non posso entrare lì eh lui c'ha il tempo a me no vabbè a me non funziona forse era questo non lo so andiamo a me l'ha anche parata aia che botte che botte ok caccia il tesoro si oh aspetta ste piante carnivore una bella botta si confondeva con il verde del prato ah c'è anche i fungozzi no trams sei morto la caccia tesoro grande da ne vuoi ok a volte puoi cambiare puoi anche non cambiare se ti piace le cose non è obbligatorio però visto che io cambio sempre almeno vediamo un po' com'è il gioco e potete oh tre due oh cosa succede tutto lento è ha vinto grande zane boy ready set heroes raccogli più oro pronti? vediamo che modalità è rospo è troppo simpatico wow rossa è più è più da esercito grande adesso bisogna fare qualcosa raccogliere il più oro possibile vediamo come ah bisogna spaccare i cassoni tutto qua si ma lo dirà cento milioni di volte questa qua ah ci sono anche i mostri ah ma danno soldi anche i mostri è perché sei un vantaggio tu mi sa no mi ha preso ah ma sei tu ah siamo nella stessa partita non lo sapevo che era ah cara aspetta eh si ahia prova a amazzarmi vediamo cosa succede eh vediamo hai preso tutto no no l'oro però le cose che avevo ah ok bello che non te le prende bisogna proprio andargli sopra se no non è che te la prende tipo 8 7 6 5 8 8 8 8 a grande già ne vuoi ha vinto lui quindi vediamo se poi oh un nuovo champion grande bravo 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 wow wow grande Leo va bene dai diciamo che oh grande bello facciamo un'altra io provo a prendere gordo e questo è online quindi possono anche giocare i vostri amici oh caspita qua ci sono dei più che altro qui bisognerà fare orca oh è terribile quello lì in mezzo oh caspiterina grande le ho già avanti io non l'ho fatto perché io no ah perché ne mancava uno col boomerang? ma perché hai preso col triangolo? no no ah ok lui vediamo lo attivo anch'io ahia ahia ci sarà col triangolo io non c'è ancora nulla ma forse sono anche le abilità di ognuno di noi di personaggio in base a cosa scegli? no no è perché quando vai al tesoro ti dà ah ok un'altra arma una nuova abilità d'armatura? a me dà l'armatura wow io c'ho zero vita cos'hai fatto? che bello guarda hai fatto anche tu la stanza segreta? sì ah ok uh i doppi pugnali un'armatura viola sì eccola 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 aspetta che ti guardo anche te no inversione comandi il destra va a sinistra il sinistra va a destra dopo Leo come? vai ma passate la bomba ah è vero dai uuuu la bomba fa no? pochierina perché riscogliano bombetta adesso è il contrario uuuuh è un casino in giù per andare in su no è solo per ferro nooo eh ah tu no ma no è stato fatto per impingere la testa no davvero ahah mamma mia ragazzi allora su per andare giù io sono ancora qua armatura bella che cosa fa? vabbè io ho più io ho più che cosa fa? ma non amo quello che ha un abito speciale speciale è un casino qui ok ok ce l'ho fatta io qua eh ma è davvero tosta è tostissima qui ah ah c'è aperto un drago un verme di fuoco no no mi è venuto il cassone in testa l'armatura da viola epica rara no te la lascio anche giù i pugnali sono buoni i pugnali sono buoni i pugnali sono buoni guarda guarda vedi che tira l'era di parte con no dai ma no dai ma questi qua io li prendo sempre quando ho qua che roba ahia c'è un tipo gigantesco qua nooo nooo sono buoni oto 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 ahia anzi la lissa dai nuos 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 tu tra che ci hai vinto tu come prima eh no mi sa che hai vinto grande Leo adesso bisogna fare quello dei soldi se è sempre così pronto forse dobbiamo io contro di te anche tu c'hai io uso quello lì è questo online se c'è un botto di gente bisogna vedere se sono piedi perché prima avevo provato non ce l'ha nessuno è divertente perché ti dai delle bazzolette incredibili no no non siamo insieme ah si anch'io mi sono ammazzato vai ahia mi hai buttato anche le cose eh cos'è la X ah ah grande eh penso che è finita hai vinto tu eh ah no 1 a 0 ah fino a quando finisce il tempo che è ah in che legnata aia 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 te la sono riuscito a fartela cos'era che c'era qua nooo 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 ma dove l'ho buttata ma che cosa è la X ma c'era una che ha fatto tipo una roba rotonda eh il cerchio il cerchio oh e poi è anche il cerchio caspita l'avevi buttato sotto no il cerchio è quella cosa di fuoco questa guarda se tu mi vieni mi blocchi il volo dai 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 ho recuperato un pelino sei ancora in vantaggio aia che legnate oi ah no 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 nella lava si si bravo Leo grandissimo punteggio 3 2 guarda le robe che hai preso e c'avevo anche l'armatura in tessuto eh si caspita una bella differenza sei stato più bravo bravo molto bello eh va bene dai tu ready set hero poi ci saranno altri episodi col grandissimo mister zane mister zane ma voi lo conoscete sul canale di marco drums come grande zane boy grande leonardo grazie per aver giocato con me per aver fatto vedere il gioco ai nostri amici ciao 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 mitici lo troverete sul plus gratuito il mese di agosto 23 ready set hero ciao a tutti dal vostro marco drums che è ispira quando seguire il mio canale youtube facebook twitter instagram di talk twitch con il rumore di piatti in sottofondo ci vediamo al prossimo episodio di questo gioco forse di tantissimi altri giochi seguite il canale e la playlist sul mio youtube channel ciao a tutti mitici mitiche ciao ciao mitici